Noi chiediamo che pensiamo che si sia perso un'occasione. Il Consiglio Comunale ha perso una grande occasione, che era quella di riscrivere il regolamento del nuovo decentramento. Riteniamo che sia stato un grave errore, è stato fatto sotto la pressione di un commissariamento e si è persa anche l'occasione di dare di nuovo più potere a queste circoscrizioni. Il decentramento paradossalmente è passato nella testa dei cittadini, non è passato nella testa della classe dirigente di questa città. Consegneremo come manifestazione queste chiavi delle altre circoscrizioni perché giornalmente non ce la facciamo più a sopperire delle grandi mancanze e non avere il potere per risolvere i problemi più spiccioli della gente. Noi siamo stati letti per risolvere problemi e non per crearne, però siamo stanchi, davvero stanchi. Chiediamo con questa manifestazione che venga inserita all'ordine del giorno il Consiglio Comunale di nuovo la variazione del regolamento del decentramento e si apportino le modifiche necessarie per contribuire a cambiare davvero questo decentramento. Altrimenti si assumono la responsabilità e dichiarino che non servono le circoscrizioni e le chiudiamo. Adesso siamo davvero stanchi. Siamo un po' stanchi perché i cittadini ci vedono come la prima interfaccia dell'amministrazione comunale. Purtroppo però al 99% dei casi le nostre richieste cadono nel vuoto. La legge ci ha assegnato dei poteri che devono essere recepiti all'amministrazione comunale. Non è bastato neanche un commissario per far sì che l'amministrazione comunale e il Consiglio Comunale approvassero gli atti propedeutici per attuare il decentramento. Da oggi in poi manifesteremo ogni giorno in tutti i modi perché siamo stanchi di dover assorbire tutte le proteste della cittadinanza senza avere il potere di dare risposte.